Siamo 2-0 lì, avanti, Rizio e Mitchell, e Mitchell che va a schiacciare. Questa volta la conclusione incoccia sul ferro e esce, bravo regime di lavorare in balzo. Mitchell libero da 3, realizza mai. Usverdi recupera, può dare a Mitchell, e Mitchell supera. Mitchell, il pallone dentro, bellissimo, e Mitchell parezza. Brown, Cavazzon, Lamperti, Mitchell. 25. 25. 25. 22. 23. 23. 24. 24. Grazie.